Buongiorno a Skio, il primo giorno, le domande classiche, le vostre sentite per essere qui in Skio con questo team? Grazie per mi accettare, le prime impressioni sono bello, le donne sono bello, le donne sono bello, ho conosco due donne, con le donne, Giannell e Liron, quindi è facile per me arrivare e sono felice, è solo il primo giorno, spero che sia meglio. Quali sono le esperienze per questo anno in Skio? Questa è la mia prima esperienza all'interno di Slovakia questo anno, questo è il mio secondo club questa sezione, spero che sia meglio aiutare questa team, facciamo la nuova liga come possiamo e divertiamo il basket. Il primo passo per te, Gianni Skio, sarà probabilmente un match in Salamanca, quindi è un difficile inizio. Sì, sì, sarà difficile, ma spero che, come ho detto, mi aiuto aiutare la team, e questo è il motivo che veni qui per giocare questi giugni giugni. E vediamo, è un tisdata, dovremmo preparare per questo. Sì,